fare questo movimento adesso se riesco ve lo faccio anche vedere prendiamo un altro nostro bicchiere che aveva messo già a raffreddare come vedete quando andate a fare questo lavoro vedete quanta schiuma chiamiamola così va a crearsi a contatto col bruspoon perché il bruspoon oltre ad essere sporco ha ovviamente una lavorazione